Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vedremo una lente in ingrandimento che ingrandisce 5 volte, diametro 75 mm in vetro. Si attra di due lenti in vetro in un cuscinetto d'aria. È una lente ottima per osservare superfici piane. Osserviamo stampati, tessuti, francobolli, monete, carte geografiche e tutte le volte che abbiamo bisogno di avere degli ingrandimenti su superfici piane. Grazie per averci seguito e vi aspettiamo al prossimo video. Grazie